volivi video di pesca e invece no siamo ancora sulla tavola finché c'è neve si tiene duro poi quando riaprire la pesca torneranno anche con i video però ragazzi portate pazienza il mio canale si chiama paolo frani non paolo frani pesca tutta la vita io faccio anche altre cose tra cui appunto sciare andare in tavola che mi piacciono tantissimo il mio canale personale parla di me e della montagna dove vivo quindi altra valbrembana pazientate arriveranno i video di pesca non preoccupatevi qui a bobbio dai piste la neve sta cedendo fa caldo giù verso valtorte invece sono ghiacciate purtroppo quest'anno la neve è quella che c'è quindi va benissimo anche così da l'importante a riuscire andare e godersi un po la montagna in questa particolare veste invernale abbastanza tiepida rispetto al l'anno scorso c'erano meno 13 gradi 5 sopra lo zero pazienza non tutti gli anni sono uguali l'anno scorso c'erano non Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.